ciao ragazzi bentornati nel club dei lettori in questi giorni in cui tutti siamo costretti a stare a casa possiamo impegnare il nostro tempo in vari modi e poi occupare il tempo in varie attività possono essere molto utili per esempio a me piace molto leggere in questo momento sono impegnato alla lettura di questo nuovo libro l'autore è John Esvo un autore scandinavo in quale sto leggendo vari libri e ve li consiglio molto sono libri gialli molto avvincenti quello che riesce comunque sempre a coinvolgervi a tenervi col ciato sospeso fino alla fine ecco questa è una delle mie attività cerco di occupare il tempo in questo modo è un'attività molto divertente che ci permette comunque di distaccare di viaggiare con la mente è un'attività comunque può sempre far crescere ecco il consiglio di leggere libri possa essere gialli romanzi quello che volete è importante riuscire a far crescere la vostra cultura perché può essere sempre un aiuto per il futuro mi raccomando restiamo tutti in casa e vedete che ne riusciremo a presto ciao ciao grazie a tutti